Attenzione, si rammetta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Attenzione, rispettiamo il distanziamento sociale, evitando assembramenti. Prima di entrare in treno, agevoliamo l'uscita dei viaggiatori in arrivo. Grazie per la collaborazione. Il treno regionale 12188 di Trenitalia, delle ore 19.07, per Roma Termini, è in partenza dal binario 2. Ferma in tutte le stazioni, eccetto Pomezia. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti. 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 Il treno regionale 12188 di Trenitalia, proveniente da Nettuno, è diretto a Roma Termini, delle ore 19 e 15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto Pomezia. Grazie a tutti. 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 Il treno regionale 12188 di Trenitalia, proveniente da Nettuno, è diretto a Roma Termini, delle ore 19 e 19, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto Pomezia. Grazie a tutti. 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 Villa Claudia. Grazie a tutti. Il treno regionale 12188 di Trenitalia, proveniente da Nettuno, è diretto a Roma Termini, delle ore 19 e 23, è in arrivo al binario 1. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Siamo in arrivo a Lido di Lavinio. We are now arriving in Lido di Lavinio. Grazie. Il treno regionale 12188 di Trenitalia, proveniente da Nettuno, è diretto a Roma Termini, delle ore 19 e 27, è in arrivo al binario 1. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto Pomenzia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in arrivo a Padiglione. Siamo arrivando in Padiglione. Il treno regionale 12188 di Trenitalia, proveniente da Nettuno, è diretto a Roma Termini, delle ore 19.31 e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto Pomezia. Attenzione! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in arrivo a Campo di Carne. We are now arriving in Campo di Carne. Il treno regionale 12188 di Trenitalia, proveniente da Nettuno, è diretto a Roma Termini, delle ore 19.36 e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto Pomenzia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Torniamo che siamo fermi a Campo di Carne per un guasto ad un passaggio livello. Vi terremo aggiornati. We inform passengers that the train has stopped in Campo di Carne due to a damage level crossing. We will keep you informed. Grazie a tutti. 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 Il treno regionale 12188 di Trenitalia, proveniente da Nettuno, è diretto a Roma Termini, delle ore 19 e 45 e in arrivo al binario 2. Attenzione. Il treno regionale 12188 di Trenitalia, è in partenza dal binario 1. Ferma in tutti. Grazie a 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 tutti. 12 188 di Trenitalia, proveniente da Lettuno, è diretto a Roma Termini, delle ore 19.52 e in arrivo al binario 6. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto Pomezia. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 20. a tutti. 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 a tutti.